buongiorno a tutti e ben ritrovati allora siamo alla parte 3 gestione delle righe essendo questo un corso intermedio ho pensato di fare un approfondimento ulteriore sulla parte di raggruppamento e quindi aggiunto un po di cose in modo che andiamo un po più a fondo sullo strumento andiamo a vedere un po tutto quello che si può fare all'interno dei raggruppamenti o perlomeno le cose più importanti essendo che ha ampliato questa parte qua la lezione diventerebbe lunga spiegarvela un po a fare tutti i punti con una sola lezione quindi spezzerò questa cosa qua in due massimo tre lezioni su tutte e tre le lezioni nella descrizione del video troverete un link per scaricare il file di esempio che adesso andrò ad utilizzare per spiegarvi tutti i vari punti così senza che dovevate replicarvelo voi a manina vi trovate tutto pronto tutti i passaggi gli esercizi che adesso andiamo a vedere e poi lo potrete usare appunto per fare un po di pratica o qualche esperimento se se lo volete partiamo con queste tre voci allora come ha strutturato il file io qui a una tabellina con data e ora poi una tabellina con la data in formato internazionale formato americano e poi andiamo a vedere come convertirla e qui a una tabellina che mi dà la data di venduto la città dove ho venduto il prodotto il prodotto se il giorno della data è lavorativo festivo e qui la quantità di prodotti che ho venduto relativa appunto giorno città e prodotto allora andiamo in power query apriamo il pannellino duplicato e andiamo su origine allora io qui per il primo esercizio parto dalla tabella del venduto quindi se noi adesso io per fare gli esercizi ho rimosso tutte le colonne ho mantenuto solo la colonna del prodotto in modo da avere le voci diversi valori ripetuti così andiamo a fare gli esercizi su questa cosa andando nel menu home trovate i pulsanti mantieni e rimuovi righe premendoli ci sono delle cose interessanti che possiamo utilizzare senza utilizzare il codice in modo che abbiamo tutte le cose pronte c'è il mantieni prime righe quindi premendo qua andremo a mantenere il numero di record che andremo ad indicarli quindi se gli diciamo 20 manterrà i primi 20 i record se prendiamo ultimi invece manterrà gli ultimi record e andrà a eliminare tutti quelli prima quindi se gli diciamo 10 manterrà i record dal 23 al 13 ed eliminerà tutti i precedenti io qua ho fatto un passaggio ho detto mantieni le prime 20 righe come vedete sono sparite gli ultimi tre record con un'informazione di acqua poi adesso ho fatto un ordinamento in modo che vediate bene cosa succede qui vedete c'è acqua che è ripetuto caffè che è ripetuto panino ripetuto succo no è univoco e tremezzino è ripetuto quindi se io qui vado sempre in mantiene righe premo mantieni intervallo mantieni duplicate scusate se premo mantieni duplicate mi manterrà tutte le voci che hanno un duplicato e andrà a eliminare tutti quei record che hanno un valore univoco all'interno della tabella io adesso l'ho già premuto vedete ha fatto il passaggio ve li ho anche fatti in modo descrittivo in modo che siano più parlanti possibili e se vedete ordine righe qui c'è succo mantieni solo duplicati non c'è più succo quindi è andato a eliminarmi i valori univoci poi ho fatto un passaggio con mantieni intervallo di righe vediamo cosa ha preso ho detto 3 12 quindi quando clicco qua cosa succede andiamo a vederlo questo passaggio dico la riga fino a che arriva a che riga devo mantenere le righe quindi fino alla riga 3 le voglio mantenere tutte e poi gli dico voglio selezionare solo le 12 successive quindi dalla 3 fino alla 3 le elimino ho detto male scusate e poi mantengo solo le 12 successive quindi parto dalla quarta conto 12 che arrivo fino alla 15 e elimino il tramezzino quindi eliminerò le prime 3 di acqua e le altre 4 di tramezzino quindi facciamo nulla vediamo il passaggio vedete sono rimaste 3 di acqua in meno e il tramezzino è sparito perché appunto sono partito dalla riga 4 e ne ho mantenute 12 quindi anche questo è interessante perché potete selezionare un intervallo di righe che sta all'interno di un set di dati se ne avete la necessità su rimuovi righe c'è l'opposto che funziona in un modo un po' diverso rimuovi righe alternate allora io qua ho messo 3 2 3 allora entriamo anche qua andiamo a vederlo 3 2 3 gli dico prima riga da rimuovere anche qua le prime 3 le mantengo e poi inizia a rimuovere dalla quarta è un po' elimini altre due e andrebbe avanti così via se ci fossero altri record andiamo a vedere cosa succede io ho già dato ok vedete ha mantenuto le prime 3 di acqua ok poi me ne ha eliminate 2 e c'è il caffè poi me ne ha tenute 3 di caffè vedete 1 2 3 e poi me ne ha eliminate altre 2 mi ha eliminato un caffè e un panino infatti vedete di panino ce ne sono due e sarebbe andata avanti così finché finché trova il record infine c'è l'opzione appunto apposta di mantieni duplicati che è appunto rimuovi duplicati quindi premendo qua andremo ad ottenere i record univoci di tutti i valori che compongono la nostra colonna quindi qui l'acqua diventerà 1 caffè 1 panino 1 qui trovate anche dei pulsanti non ho fatto degli esempi ma sono semplici anche questi mantiene errore quindi se avete degli errori all'interno del vostro set di dati premendo qua lui andrà mantenere solo i record che riportano un errore su rimuovi la stessa cosa potete decidere di mantenere solo le righe vuote se ne avete oppure di scusate di rimuovere le righe vuote se ne avete oppure di rimuovere tutti gli errori che si sono generati all'interno di alcune righe del vostro set di date che anche questo può essere interessante da utilizzare bene con questa prima parte siamo ok andiamo a vedere il punto successivo è combina data ora allora andiamo su questa cosa qua quindi lavoriamo su questa tabella a sinistra vedete elimino il modifica tipo che è una cosa che fa lui quando importa la tabella in automatico così lo facciamo noi allora vedete io qua la data la metto in data e questa la metto in ora ok quindi ho data e ora se io dovesse andare a combinare farei così ad esempio data team e poi gli direi data and time e così ho creato la data poi dovrei cancellare queste due cose qua vedete e ho creato la mia data time però ho fatto dei diversi passaggi e secondo me non è bellissimo perché c'è una funzione che già pronta vedete data se venite qua c'è combina data e ora però non è evidenziata perché perché dovete selezionare una data con il tasto shift premete anche su ora adesso si illuminano tutti e due vedete lo trovate sia su ora che su data è lo stesso dove andate a premere se voi premete qua con un singolo passaggio è andato a crearvi il sottomers quindi ha creato il data time vedete qui poi potete anche scrivergli se volete data team senza dover andare a fare la funzione vedete che comunque lui l'ha creata la la funzione bene con questo siamo a posto andiamo avanti modifica tipo con impostazioni locali date allora anche questo è veramente molto interessante perché eliminiamo questi passaggi eccolo qua allora noi lavoriamo con questa tabellina qui qui abbiamo appunto la data che ci arriva ipotizziamo che siamo in un ambiente lavorativo che lavora con più region quindi gli americani hanno le loro impostazioni internazionali quindi hanno prima il mese poi il giorno poi l'anno noi abbiamo prima il giorno poi il mese e poi l'anno quindi qualcuno dall'america ci sta mandando qua delle informazioni con data e magari dei valori però ce li sta mandando con il loro formato quando noi apriamo quell'informazione là noi abbiamo il nostro computer che magari configurato con le impostazioni internazionali italiane quindi dobbiamo andare a fare la conversione di questa cosa qua come si fa con power query vedete combina da tavola eccolo qua andiamo alla fine allora io ho preso questa tabellina qua gli ho detto appunto che questa è una scusate impostazione internazionale origine ho questa cosa qua vedete in questo caso qua vi è su un pasticcio quando la importo perché mi vede la prima e i primi tre me li interpreta come testo perché non li riconosce come data appunto perché vede il 28 sulla parte dove dovrebbe starci il mese quindi sta mescolando le cose invece le altre le sta riconoscendo come date quindi power query in automatico va a riconoscerle in questo modo con modifica tipo io cosa gli ho detto converti tutto in testo quindi gli ho detto testo e ho messo tutto in testo in modo da avere tutto allineato e tutto è tutto corretto poi gli ho detto fai un string estrai con questo pulsante qua dal menu aggiungi caratteri iniziali ho detto prendi i primi dieci caratteri così io qui adesso ho la data in formato americano come faccio a girarla e a far capire il mio sistema che questa è una data perché se io adesso vado qua e gli dico fammi una data lui dice guarda che c'è qualcosa che non va perché le prime tre è impossibile che siano delle date perché appunto mi stai dicendo che il mese 28 e il giorno 4 quindi vedete va in errore nessuna paura senza fare formule strane basta premere qua andare su uso delle impostazioni locali facciamo inserisci quindi diciamo che vogliamo convertire il nostro campo testo in campo data e quindi diciamo quali sono le impostazioni internazionali che sono all'origine di questi dati quindi per noi sono us stati uniti quindi facendo così lui mi dice guarda che stai leggendo la data in questo formato quindi mese giorno anno queste sono praticamente appunto l'origine per come sta arrivando quando io gli do ok adesso io quello già fatto vedete lui scrive questa cosa qua e dice en us quindi sono impostazioni locali americane e lui però vedete me l'ha girata nel modo corretto vedete 4 28 e qui adesso è diventato 24 28 4 quindi lui sa che parto dall america e me le converte nelle impostazioni che sono configurate nel mio pc se non sapete dove sono pannello di controllo area geografica e lui le converte nelle impostazioni che abbiamo qui quindi mi fa giorno mese anno quindi basta specificare come sono le impostazioni di lettura dal dalla fonte di origine per essere certi vedete qui ad esempio c'è un 4 12 se noi andiamo a vedere mi mette appunto 12 4 quindi me le converte tutte quante nel modo corretto bene questo è quanto per questa lezione e nelle prossime andiamo appunto a vedere i raggruppamenti se il video vi è piaciuto condividetelo lasciate un like iscrivetevi se non siete già iscritti e vi saluto e a presto ciao